Sapevate che il rotore di taglio Duradrum John Deere assicura qualità e prestazioni di trinciatura costanti indipendentemente dal volume di raccolto? Grazie al sistema di compressione a molle con smorzamento idraulico dei rubi alimentatori, il raccolto in entrata viene compattato direttamente. In combinazione con il design ad arco radiale dell'apertura dei rubi alimentatori, garantiamo una distanza costante dal punto di compattamento al taglio, assicurando un'operazione di alta qualità indipendentemente dal volume di materiale. Il tamburo multilama offre più aree di taglio sovrapposte, impedendo in tal modo che particelle di dimensioni eccessive passino attraverso la macchina. La modalità di affilatura inversa come standard, con i cicli di levigatura e lucidatura, garantisce bordi perfettamente affilati e aumenta la durata delle lame. La regolazione del coltello fisso richiede appena 45 secondi e può essere controllata facilmente e comodamente dalla cabina per garantire le massime prestazioni del rotore di taglio in modo semplice e veloce. E potete stare cerchi che con l'esclusivo design Duradrum di John Deere raggiungerete i massimi livelli di qualità della trinciatura.